Buongiorno a tutte e tutti. Il video di oggi ha come argomento misura nei sistemi trifase. Prima di arrivare al nocciolo della questione, dobbiamo parlare generalmente di strumenti di misura. In particolare consideriamo tre resistori in cui vogliamo misurare la corrente, la tensione e la potenza. Per quanto riguarda la corrente, la misura si fa con uno strumento che si chiama amperometro. Siccome deve misurare la corrente, si deve connettere in serie al resistore. Esiste una notazione chiamata morsetto contrassegnato che ci permette di stabilire il verso con cui stiamo misurando la corrente. Questo pallino è il morsetto contrassegnato e indica il fatto che la corrente che stiamo misurando è scelta come positiva se è entrante in questo morsetto, appunto il morsetto contrassegnato. In questo caso la corrente che stiamo misurando è orientata come la frecciolina arancione che corrisponde alla frecciolina bianca e quindi stiamo proprio misurando la corrente I. Se parliamo di misura di tensione, la tensione è definita come una differenza di potenziale, quindi il nostro strumento dovrà connettersi tra due nodi del circuito e andrà a misurare quella differenza di potenziale. Nel nostro caso parliamo di tensione ai capi di un resistore e quindi il volmetro starà in parallelo al resistore. Anche in questo caso abbiamo un morsetto contrassegnato che ci permette di stabilire qual è il nodo convenzionalmente positivo della nostra misura e quindi qui andiamo a mettere il morsetto contrassegnato sulla polarità positiva della tensione, l'altro morsetto del volmetro sulla polarità negativa della tensione. Andiamo ora alla misura di potenza. Ricordiamoci che la potenza è un prodotto tensione percorrente e di conseguenza il nostro strumento dovrà in qualche modo misurare sia la tensione e la corrente per poi elaborarle e fornirci la misura di tensione. Quindi partiamo dal dire che il nostro strumento si chiama wattmetro, dopo lo vedrete anche scritto, e che inizialmente si inserisce come un amperometro, quindi in serie al nostro resistore, con il suo morsetto contrassegnato che misura una corrente positiva entrante in questo morsetto e quindi coincide con la corrente I del nostro resistore. Questa inserzione si chiama bobina amperometrica oppure inserzione amperometrica del wattmetro, a cui dobbiamo aggiungere la bobina volmetrica, che è questa. Altro morsetto contrassegnato che va a posizionarsi sul terminale positivo di questa tensione e l'altro morsetto che invece va sul terminale negativo. Come vedete questo strumento misura sia la corrente che la tensione e di conseguenza è in grado di fornirci il prodotto tensione percorrente, quindi una potenza. Qualche precisazione in più è necessaria nel momento in cui siamo in corrente alternata, quindi il nostro carico è un'impedenza con un modulo e un angolo caratteristico. La tensione, la corrente e i capi dell'impedenza si possono rappresentare con i fasori associati alle grandezze nel tempo. Cosa misura il nostro wattmetro? Supponiamo di avere questa notazione, quindi un fasore di tensione con un certo modulo e una sua fase, Fv, e un fasore di corrente con un suo modulo e una certa fase, Fconi. L'angolo caratteristico è la differenza di fase tra la tensione e la corrente. Bene, il wattmetro ci fornisce una lettura che è pari al prodotto dei moduli dei due fasori, se andiamo nel dominio del tempo questo è il prodotto dei valori efficaci di tensione e corrente, per il coseno della differenza tra la fase della tensione e la fase della corrente. Ora, ricordandoci la definizione di angolo caratteristico e quindi vedendo che all'argomento di questo coseno è proprio Φ, questo è il prodotto V per i cos Φ e noi sappiamo che questa è la potenza elettrica. Quindi la lettura del wattmetro, che si identifica con la lettera W da non confondere con l'energia, ok, quindi questa è una potenza, coincide a livello di significato con la potenza attiva assorbita dal nostro carico. Bene, con queste premesse possiamo andare a parlare di inserzione Aron. Quest'inserzione è un'inserzione che ci permetterà di misurare la potenza attiva di un carico trifase e in alcune incondizioni, quindi sotto alcune ipotesi, anche la potenza reattiva. Cominciamo con la potenza attiva e cominciamo con il connettere il nostro generatore trifase al nostro carico. Come vi dicevo l'obiettivo è quello di posizionarsi in una sezione immediatamente a monte del nostro circuito, scusate, del nostro carico e andiamo a identificare i flussi di potenza. In questo caso i flussi di potenza sono P e Q. Adesso ci concentreremo sulla potenza attiva, troveremo un modo per misurare la potenza attiva. Dunque, questo circuito è molto semplice. A valle del nostro generatore abbiamo solo e soltanto il carico, pertanto possiamo in prima battuta immaginare le potenze assorbite dal carico come le potenze erogate dal nostro generatore. Quindi se noi andiamo a scrivere S, questa è una potenza complessa e questa potenza P più J Q la immaginiamo non come potenza assorbita dal carico ma come potenza erogata dal generatore, la possiamo scomporre in ciò che succede sulle tre fasi. Quindi sulla fase 1 avremo una potenza complessa E1 per I1 coniugato, sulla fase 2 avremo una potenza complessa E2 per I2 complesso coniugato. Ora, consideriamo questo nodo e andiamo a scrivere una legge di Kirchhoff delle correnti. Quel nodo lì scopriamo che la somma delle correnti I1 più I2 più I3 è uguale a 0. Vogliamo utilizzare questa espressione per andare a esprimere una corrente in funzione delle altre. Abbiamo quindi tre opzioni perché possiamo scrivere I1 in funzione di I2 e I3 oppure I2 in funzione di I1 e I3 oppure I3 in funzione di I1 e I2. Scegliamo quest'ultima strada. La corrente I3 la possiamo scrivere come meno I1 meno I2. Il nostro obiettivo è prendere questa equazione e sostituirla nella prima, dove però compare I3 complesso coniugato. Quindi andiamo a scrivere che I3 complesso coniugato è pari a meno I1 complesso coniugato meno I2 complesso coniugato. E adesso, come vi dicevo, andiamo a sostituirla qui. Cosa otteniamo? Qui abbiamo sempre la nostra potenza S. Questa potenza S è pari a E1 per I1 complesso coniugato più E2 per I2 complesso coniugato più I3 per I3 complesso coniugato. Apro quindi una parentesi e questo diventa meno I1 complesso coniugato meno I2 complesso coniugato. Ho la possibilità di mettere a fattor comune tutto ciò che moltiplica I1 complesso coniugato. Questo termine è pari a E1 meno I3 per I1 complesso coniugato. Stessa cosa per quanto riguarda I2 complesso coniugato. Il termine che posso mettere a fattor comune è E2 meno I3 che moltiplica I2 complesso coniugato. Fateci caso sono comparse due tensioni concatenate. Le tensioni concatenate che possiamo definire come V1 3 che moltiplica I1 complesso coniugato più la tensione concatenata V2 3 che moltiplica I2 complesso coniugato. Ricordo che a primo membro abbiamo la potenza attiva, questo è quello che abbiamo. Se adesso qui andiamo a considerare di questa uguaglianza che è un'uguaglianza tra numeri complessi solo la parte reale. A primo membro otteniamo P e a secondo membro otteniamo la somma di. Il primo è un prodotto di V1 3 per la corrente I1. Questo è un prodotto di moduli per il coseno della fase V1 3 della fase V1 3 meno la fase della corrente I1. A questo dobbiamo sommare un secondo termine. Questo secondo termine è il prodotto V2 3 che moltiplica la corrente I2 per il coseno della fase V2 3 meno la fase della corrente I2. Bene, siamo arrivati al dunque perché questo termine, il primo termine, è un termine misurabile, quindi questo qua andiamo a scrivere che è misurabile con un wattmetro. Questo wattmetro lo chiamiamo wattmetro 1. Come facciamo a posizionare questo wattmetro? Direi che quel wattmetro, partiamo dall'inserzione amperometrica, quel wattmetro deve misurare la corrente I1, quindi lo vado a posizionare qui sulla fase 1. Questo è il wattmetro 1. Qui avrò il morsetto contrassegnato che mi permette di misurare la corrente I1. Parliamo ora di inserzione volmetrica. L'inserzione volmetrica deve andare a misurare la tensione V1 3, quindi sulla fase 1 avrò il morsetto contrassegnato della bobina volmetrica e sulla fase 3 l'altro morsetto. Quindi questo qua direi che è il wattmetro uno, un wattmetro così inserito, mi va a misurare esattamente il termine lì indicato in blu in questa equazione. Ora, prendo un colore, non so, un colore arancione, anzi un colore verde. Questo secondo termine è un termine, anche lui, misurabile. W2. Dove dobbiamo inserirlo? Direi che questo wattmetro va inserito sulla fase 2, perché deve misurare la corrente I2. Quindi vengo qua, vado ad inserire il wattmetro. il borsetto contrassegnato della bobina amperometrica va lì, il borsetto contrassegnato della bobina volmetrica invece va qua e va a connettersi per misurare la tensione V2 3. ecco che questa è la cosiddetta inserzione Aron. Quest'inserzione, in estrema sintesi, ci permette di misurare la potenza attiva I come somma della lettura di due wattmetri. Le letture le indichiamo con la lettera W e sono le letture W1 e W2. Quindi questo qua è il risultato definitivo per quanto riguarda la misura di potenza attiva. Alcune precisazioni. Noi qui, per ottenere questo risultato, abbiamo scritto la corrente I3 in funzione della corrente I1 e della corrente I2. Ma non era l'unica opzione, ve l'ho detto anche mentre stavamo ragionando sulle equazioni. Andiamo a capire quindi quali altre possibili configurazioni abbiamo per quanto riguarda l'inserzione degli strumenti. Qui vedete riassunta l'inserzione che abbiamo appena visto, che deriva da aver scritto I3 in funzione delle altre correnti. Se andassimo a scrivere I1 in funzione delle altre correnti, questa è la configurazione che otterremmo. E se andassimo a scrivere I2 in funzione delle altre correnti, questa è l'inserzione che otterremmo. Ora, al di là di questi punti di partenza, guardiamo i punti di arrivo, che sono abbastanza facili da ricordare, perché nel passaggio dalla prima alla seconda configurazione, i wattmetri scendono verso il basso di una fase. Il wattmetro I finisce sulla fase II, il wattmetro II finisce sulla fase III. Nel passaggio dalla seconda configurazione alla terza, di nuovo, i wattmetri scendono di una fase, il wattmetro I scende sulla fase III, il wattmetro II deve scendere ma non trova più un conduttore e di conseguenza ritorna sulla fase I. Quindi questo è il modo per ricordarsi le tre configurazioni possibili. Date queste tre configurazioni e definite con le lettere W1 e W1, scusate, W1 e W2, le letture dei due wattmetri, allora in qualunque di queste configurazioni noi siamo in grado di stabilire la potenza attiva misurata da questi wattmetri come somma di W1 e W2. Adesso andiamo avanti e occupiamoci di misura della potenza reattiva. La misura della potenza reattiva la analizziamo su questo schema, che come abbiamo prima visto è equivalente agli altri due. La, diciamo, osserviamo che in questo schema i due wattmetri, per quanto riguarda la bobina volmetrica, stanno misurando le tensioni concatenate W1 e W2 e W3 e andiamo a rappresentare un diagramma fasoriale di questo schema. Quindi abbiamo le tre tensioni di fase, stiamo considerando una terna simmetrica e diretta. Quindi adesso andiamo ad inserire il fatto che i nostri ragionamenti dipendono dalla sequenza diretta. Sarà un'ipotesi di lavoro. Tutto quello che diremo d'ora in avanti dipenderà dal fatto che abbiamo scelto una sequenza diretta. Dopodiché andiamo a scegliere anche il fatto che il carico è equilibrato. Questo significa che, date queste ipotesi, tutto ciò che andremo a trattare sarà una diretta conseguenza. Tutto ciò che andremo ad ottenere varrà soltanto per una sequenza diretta, un carico equilibrato e chiaramente una terna simmetrica. Ora, il carico equilibrato cosa implica? Che le correnti I1, I2 e I3 abbiano lo stesso modulo e siano sfasate tra di loro di 120 gradi. O, in altri termini, che siano sfasate di un angolo Φ, tutte rispetto alla loro tensione di fase. In questo caso stiamo vedendo l'assorbimento di un carico complessivamente omico-induttivo. Benissimo. Andiamo avanti e riprendiamo le tensioni concatenate che stanno misurando quei due wattmetri. Rappresentiamole sul diagramma fasoriale. Eccole qua. La tensione V1,3 si ottiene come un'operazione vettoriale, vettore E1 meno vettore E3. La tensione V2,3 si ottiene come vettore E2 meno vettore E3. Le troviamo qua e per costruzione sono 30 gradi in ritardo. Questa tensione qua, V1,3, è 30 gradi in ritardo rispetto a E1 e questa qua è 30 gradi in anticipo rispetto a D2. Quindi ci sono 30 gradi di differenza tra una tensione di fase e una tensione concatenata. Ricordiamoci che il wattmetro U1 misura la corrente I1. Quindi lui, il wattmetro, è interessato alla differenza di fase che c'è tra questa tensione, V1,3, e questa corrente I1. Genericamente, la differenza di fase tra la tensione e la corrente del wattmetro U1 è una differenza che noi qui possiamo rappresentare graficamente con questo angolo verde e che possiamo quantificare come φ meno 30. Per quanto riguarda il wattmetro U2, lui è interessato alla differenza di fase tra la tensione V2,3 e la corrente I2. Graficamente la vediamo qua e vediamo che la possiamo rappresentare come φ più 30. Benissimo, teniamo sott'occhio questa espressione trigonometrica e tentiamo di capire quanto vale la quantità W1 meno W2. Cioè tentiamo di fare la differenza della lettura dei due wattmetri. Prima ne abbiamo fatto la somma e adesso ne stiamo per fare la differenza. Ora, il primo wattmetro misura un prodotto V per I. Qui non è necessario andare a chiamare questa V come V1,3 e questa I come I1 perché tutte le tensioni concatenate hanno lo stesso modulo e siccome il carico è equilibrato tutte le correnti hanno lo stesso modulo. Quindi genericamente le chiamiamo come V per I. La può tenere traccia del fatto che la differenza di fase tra V1,3 e I1 è φ meno 30. Quindi qua mettiamo φ meno 30. Dopodiché abbiamo meno, questo V2 avrà un prodotto V per I perché è V2,3 a modulo V e I2 a modulo I per il coseno di φ più 30. Uguale, vengo qua, la prima quantità è prodotto V per I, poi metto una parentesi quadra, questo coseno di φ meno 30 lo vado a scomporre con questa espressione. Quindi avrò un coseno di φ per un coseno di meno 30 meno seno di φ seno di meno 30. Poi ho un segno meno, V per I, apro una parentesi quadra. A questo punto avrò un coseno di φ, coseno, scusate è scritto molto male, coseno di 30 meno seno di φ seno di 30 e chiudo la parentesi quadra. Continuo qua, anzi prima di continuare vi faccio notare che il coseno di meno 30 è uguale al coseno di 30 e che il seno di meno 30 è uguale al meno seno di 30. Notiamo quindi che V per I cos φ per cos 30 viene bilanciato da questo V per I cos φ per cos 30. Quindi di fatto questo termine sparisce e si semplifica con questo. Cosa sopravvive a tutta questa, a tutta questa espressione? Sopravvive il fatto che a questa parte abbiamo un V per I, questo meno per meno diventa più, di conseguenza qui abbiamo seno di φ per seno di 30 e qui abbiamo un meno per meno che diventa più, quindi più V per I seno di φ per il seno di 30. Considerando che il seno di 30 vale un mezzo, qui otteniamo un V per I per il seno di φ. Quindi tutta questa cosa qua sostanzialmente in un sistema trifase è equivalente a Q fratto la radice di 3. Ricordiamoci che Q è uguale a radice 3 volte V per I per il seno di φ. Quindi in estrema sintesi noi abbiamo scoperto che se la terna è simmetrica, se la sequenza è diretta e se il carico è equilibrato, con quei 2 wattmetri che ci permettevano di misurare la potenza attiva, riusciamo a misurare anche la potenza reattiva come prodotto di radice 3 volte lettura del wattmetro 1 meno lettura del wattmetro 2. Questo è quello che otteniamo. Ok, è arrivato il momento di considerare una sintesi di tutto quello che abbiamo visto. abbiamo un'inserzione ARON che ci permette di inserire 2 wattmetri. Qui vedete una delle tre possibilità di rappresentazione dei 2 wattmetri. Dati questi 2 wattmetri, senza nessuna restrizione, quindi questa cosa che sto per dire è valida sempre, la somma dei 2 wattmetri, la somma della lettura dei 2 wattmetri ci fornisce la potenza attiva assorbita da questo carico. Con alcune restrizioni, quindi vuol dire con alcune ipotesi di valore, di lavoro, cioè se la terna è simmetrica, diretta e se il carico è equilibrato, allora Q uguale radice 3 volte W1 meno W2 è una strada percorribile. Vale a dire che questa espressione, radice 3 volte W1 meno W2, ci fornisce la potenza reattiva. Noi non l'abbiamo visto, ma in realtà se fossimo partiti da una terna simmetrica inversa ed un carico equilibrato, le equazioni si modificavano un pochettino e l'espressione che avremmo trovato è questa, radice 3 volte W2 meno W1. Quindi basta invertire questa differenza. Se facciamo questa volta W2 meno W1 otteniamo la potenza reattiva. E questa è la sintesi della misura in sistemi di potenza, in sistemi trifase, mediante inserzione Aron.